le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 29 pinocchio ritorna a casa della fata la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un burattino ma diventerà un ragazzo gran colazione di caffè e latte per festeggiare questo grande avvenimento mentre il pescatore era proprio sul punto di buttare pinocchio nella padella entrò nella grotta un grosso cane condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura passa via gli gridò il pescatore minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato ma il povero cane aveva una fame per quattro e mugolando ed imenando la coda pareva che dicesse dammi un boccon di frittura e ti lascio in pace passa via ti dico gli ripete il pescatore e allungò la gamba per tirargli una pedata allora il cane che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posar mosche sul naso si rivoltò ringhioso al pescatore mostrandogli le sue terribili zanne in quel mentre si udì nella grotta una vocina fioca fioca che disse salvami alidoro se non mi salvi son fritto il cane riconobbe subito la voce di pinocchio e si accorse con sua grandissima maraviglia che la vocina era uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore teneva in mano allora che cosa fa spicca un gran lancio da terra abbocca quel fagotto infarinato e tenendolo leggermente coi denti esce correndo dalla grotta e via come un paleno il pescatore arrabbiatissimo di vedersi strappar di mano un pesce che egli avrebbe mangiato tanto volentieri si provò a rincorrere il cane ma fatti pochi passi gli venne un nodo di tosse e dove tornarsene indietro intanto alidoro ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese si fermò e posò delicatamente in terra l'amico pinocchio quanto ti debbo ringraziare disse il burattino non ce n'è bisogno replicò il cane tu salvasti me quel che è fatto e reso si sa in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'uno con l'altro ma come mai sei capitato in quella grotta ero sempre qui disteso sulla spiaggia più morto che vivo quando il vento mi ha portato da lontano un odorino di frittura quell'odorino mi ha stuzzicato l'appetito e io gli sono andato dietro se arrivavo un minuto più tardi ah non me lo dire urlò pinocchio che tremava ancora dalla paura non me lo dire se tu arrivavi un minuto più tardi a quest'ora io ero bello e fritto mangiato e digerito mi vengono i brividi soltanto a pensarvi alidoro ridendo stese la zampa destra verso il burattino il quale gliela strinse forte forte in segno di grande amicizia e dopo si lasciarono il cane riprese la strada di casa e pinocchio rimasto solo andò a una capanna lì poco distante e domandò a un vecchietto che stava sulla porta a scaldarsi al sole dite galantuomo sapete nulla di un povero ragazzo ferito nel capo che si amava eugenio il ragazzo è stato portato da alcuni pescatori in questa panna e ora ora sarà morto interruppe pinocchio con gran dolore no ora è vivo è già ritornato a casa sua davvero davvero gridò il burattino saltando dall'allegrezza dunque la ferita non era grave ma poteva riuscire gravissima e anche mortale rispose il vecchietto perché gli tirarono nel capo un grosso libro rilegato in cartone e chi glielo tirò un suo compagno di scuola un certo pinocchio e chi è questo pinocchio domandò il burattino facendolo gnorri dicono che sia un ragazzaccio un vagabondo e un vero rompiollo calunnie tutte calunnie lo conosci tu questo pinocchio di vista rispose il burattino e tu che concetto ne hai gli chiese il vecchietto a me mi pare un gran buon figliolo pieno di voglia di studiare obbediente affezionato al suo babbo e alla sua famiglia mentre il burattino sfilava a faccia fresca tutte queste bugie si toccò il naso e si accorse che il naso gli era allungato più di un palmo allora tutto impaurito cominciò a gridare non date retta galantuomo a tutto il bene che ve ne ho detto perché conosco benissimo pinocchio posso assicurarvi anch'io è davvero un ragazzaccio un disubbediente uno svogliato e che invece di andare a scuola va con compagna a fare lo sbarazzino appena ebbe pronunciato queste parole il suo naso raccorci e tornò alla grandezza naturale come era prima e perché sei tutto bianco con questo modo gli domandò a un tratto il vecchietto vi dirò senza vedermene mi sono strofinata un muro che si era imbiancato di fresco rispose il burattino vergognandosi a raccontare che lo avevano infarinato come un pesce per poi friggerlo in padella o della sua giacchetta delle sue calzoncine del tuo berretto che cosa ne hai fatto ho incontrato i ladri e mi hanno spogliato dite bon vecchio non è che avreste per caso da darmi un po di vestituccio tanto perché io possa ritornare a casa ragazzo mio in quanto a vestiti io non ho che un piccolo sacchetto dove ci tengo i lupini se lo vuoi piglialo eccolo là pinocchio non se lo fece dire due volte prese subito il sacchetto dei lupini che era vuoto e dopo averci fatto con le forbici una piccola buca nel fondo e due buche dalle parti se lo infilò a uso camicia e vestito leggerino a quel modo si avviò verso il paese ma lungo la strada non si sentiva appunto tranquillo tant'è vero che faceva un passo avanti e uno indietro discorrendo da sé solo andava dicendo come farò a presentarmi alla mia buona fatina che dirà quando mi vedrà vorrà perdonarmi questa seconda berichinata scommetto che non me la perdona non me la perdona di certo e mi sta il dovere perché io sono un monello che prometto sempre di correggermi e non mantengo mai arrivò al paese che era già notte buia e perché faceva tempaccio e l'acqua veniva giù a catinelle andò diritto diritto alla casa della fata con l'animo risoluto di bussare alla porta e di farsi aprire ma quando fu lì sentì mancarsi il coraggio e invece di bussare si allontanò correndo una ventina di passi poi tornò una seconda volta alla porta e non concluse nulla poi si avvicinò una terza volta e nulla la quarta volta prese tremando il battente di ferro in mano e bussò un piccolo colpettino aspetta aspetta finalmente dopo mezz'ora si aprì una finestra dell'ultimo piano la casa era di quattro piani e pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca che aveva un lumicino acceso sul capo la quale disse chi è a quest'ora la fata in casa domandò il burattino la fata dorme e non vuole essere svegliata ma tu chi sei sono io chi io pinocchio chi pinocchio il burattino quello che sta in casa con la fata ah ho capito disse la lumaca aspettami costi che ora scendo giù e ti apro subito spicciatevi per carità perché io voglio dal freddo ragazzo mio io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta intanto passò un'ora ne passarono due e la porta non si apriva per cui pinocchio che tremava dal freddo dalla paura e dall'acqua che aveva addosso si fece cuore e bussò una seconda volta e bussò più forte a quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita lumaca lumachina bella gridò pinocchio dalla strada sono due ore che aspetto e due ore a questa serataccia diventano più lunghe di due anni spicciatevi per carità ragazzo mio gli rispose dalla finestra quella bestiuola tutta pace e tutta flemma ragazzo mio io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta e la finestra si richiuse di lì a poco suonò la mezzanotte poi il tocco poi le due dopo mezzanotte e la porta era sempre chiusa allora pinocchio perduta la pazienza afferrò con rabbia il battente della porta per bussare un gran colpo da far rintronare tutto il casamento ma il battente che era di ferro diventò a un tratto un'anguilla viva che sgusciandogli dalle mani sparì in un rigagnolo d'acqua che scorreva in mezzo alla strada ah sì gridò pinocchio sempre più accecato dalla collera se il battente sparito io seguiterò a bussare a furia di calci e tiratosi un poco indietro lasciò andare una solennissima pedata nell'uscio della casa e il colpo fu così forte e il piede penetrò nel legno fino a mezzo e quando il burattino si provò a ricavarlo fuori fu tutta fatica inutile perché il piede c'era rimasto conficcato dentro come un chiodo ribadito figuratevi il povero pinocchio dove passare tutto il resto della notte con un piede in terra e con quell'altro per aria la mattina sul far del giorno finalmente la porta si aprì quella brava bestiuola della lumaca a scendere dal quarto piano fino all'uscio di strada ci aveva messo solamente nove ore bisogna proprio dire che avesse fatto una sudata che cosa fate con codesto piede conficcato nell'uscio domandò ridendo al burattino è stata una disgrazia vedete un po' l'umachina bella se vi riesce di liberarmi da questo supplizio ragazzo mio costici vuole un legnaiolo e io non ho mai fatto la legnaiola pregate la fata da parte mia la fata dorme e non vuole essere svegliata ma che cosa volete io faccia inchiodato tutto il giorno a questa porta divertiti a contare le formicole che passano per la strada portatemi almeno qualche cosa da mangiare perché mi sento rifinito subito disse la lumaca difatti dopo tre ore e mezzo pinocchio la vide tornare con un vassoio d'argento in capo nel vassoio c'era un pane un pollastro arrosto e quattro albicocche mature ecco la colazione che vi manda la fata disse la lumaca alla vista di quella grazia di dio il burattino sentì consolarsi tutto ma quale fu il suo disinganno quando incominciando a mangiare si dove accorgere che il pane era di gesso il pollastro di cartone e le quattro albicocche di alabastro colorite come se fossero vere voleva piangere voleva darsi alla disperazione voleva buttar via il vassoio e quel che c'era dentro ma invece o fosse il gran dolore o la gran languidezza di stomaco fatto sta che cadde svenuto quando si riebbe si trovò steso sopra un sofà e la fata era accanto a lui anche per questa volta ti perdono gli disse la fata ma guai a te se me ne fai un'altra delle tue pinocchio promise e giurò che avrebbe studiato e che si sarebbe condotto sempre bene e mantenne la parola per tutto il resto dell'anno difatti agli esami delle vacanze ebbe l'onore di essere il più bravo della scuola e i suoi portamenti in generale furono giudicati così lodevoli e soddisfacenti che la fata tutta contenta gli disse domani finalmente il tuo desiderio sarà pagato cioè domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene chi non ha veduto la gioia di pinocchio a questa notizia tanto sospirata non potrà mai figurarsela tutti i suoi amici e compagni di scuola dovevano essere invitati per il giorno dopo a una gran colazione in casa della fata per festeggiare insieme il grande avvenimento e la fata aveva fatto preparare 200 tazze di caffè e latte e 400 panini imburrati di dentro e di fuori quella giornata prometteva di riuscire molto bella e molto allegra ma disgraziatamente nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa